Io parto dalle forze di opposizione, ho letto tante cose oggi sui giornali, io lascio correre tutti retroscena purché ci sia sempre il limite della decenza, ci sono inventati incontri con Maroni, niente di che, ma io Maroni non l'ho visto, l'ho salutato il 2 giugno alla festa della sfilata, per la festa del 2 giugno della Repubblica. Noi partiamo come facciamo, come ho detto in direzione, dai temi economici, sociali, di riforma fiscale e così via, da un confronto che si apre con le forze di opposizione, quindi questa cosa qui va letta, così come faremo il giro sui temi della precarietà, sui temi della fiscalità e così via, sulla base del nostro progetto, delle proposte che abbiamo allestito, così si farà per la legge elettorale, niente di più e niente di meno. Ci sono un sistema di soldi di sbarramento, tutti d'accordo, intanto dico questo, abbiamo lavorato, abbiamo un nostro progetto di riforma elettorale, perché tutti sanno che la legge elettorale che abbiamo è indecente, è una proposta che non è né ungherese né svedese, è una proposta italiana e che è congegnata attorno a un meccanismo a doppio turno, con una quota proporzionale, con un diritto di tribuna e con un meccanismo per la parità di genere. È una proposta attorno alla quale vogliamo raccogliere una discussione, quindi noi discuteremo in modo aperto, con le forze di opposizione, disponibili a ragionare con noi, perché deve essere chiaro che noi, ai prossimi appuntamenti politici, eventualmente elettorali, ci vogliamo andare dicendo agli italiani che comunque questa legge elettorale non va bene. In più, abbiamo una proposta, che io ritengo molto importante e significativa, che dice che i gruppi parlamentari possono formarsi solo sulla base dei simboli che si sono presentati alle elezioni. Un parlamentare, se decide di cambiare gruppo, è libero, naturalmente, è libero di andare in un gruppo misto, ma non è possibile continuare in un meccanismo dove la formazione dei gruppi parlamentari è totalmente svincolata dall'appuntamento elettorale. Io ritengo questa una proposta molto importante. Quindi abbiamo una posizione, ripeto, la discuteremo in modo aperto, con le forze di opposizione, perché naturalmente quando si propone la legge elettorale si sa anche che non la si può votare da soli. Noi stiamo lavorando al nostro progetto. Il nostro progetto comprende la legge elettorale. Questo è il dato. Dopodiché, se mi si chiede cosa prevedo io per il governo, credo che tutti stiano osservando come questo governo non sta in piedi. Ma più che per questi meccanismi di cui stiamo discutendo, elettorali o meno, è perché il grande tema economico e sociale non è stato affrontato in questi anni e adesso comincia ad arrivare la resa dei conti. Io credo che questo dibattito surreale sul tema allarghiamo i cordoni o stringiamo i cordoni della borsa vorrei chiedere ma di quale borsa stiamo parlando? Noi siamo davanti a dei guai. Loro hanno negoziato con l'Europa un certo rientro dal debito. Noi non siamo stati d'accordo con quel modo. Noi chiederemmo una rinegoziazione sulla base di un pacchetto di riforme strutturali che ci consentisse di affrontare il tema del debito in un altro modo. Loro hanno firmato, loro si prendono la responsabilità di dire adesso cosa si fa. Non pensino di metterla a polvere sotto il tappeto e di lasciare ad altri questo problema. Adesso devono dire come si fa perché loro sono il governo. Quindi giugno, ottobre, benissimo. Adesso dicono come si fa. E poi facciamo il riassunto di dieci anni. I regolamenti della Camera prevedono norme per il finanziamento dei gruppi. Io sto dicendo che un gruppo non può formarsi se non sulla base dei simboli si sono presentate le elezioni. Dopodiché ci può essere un gruppo misto. Questo mi pare tutta salute dopo le vicende che abbiamo visto in questi mesi. E quindi anche questo è una proposta che faremo andare avanti.